L'assertori che non ti aspetti tira fuori le unghie e vince in casa la sua prima partita stagionale, un successo che vale ancora di più se si considera che l'avversario in questione era poco di meno che l'Eco. I cugini che i sondresi non battevano ormai da tre stagioni, questa volta invece sconfitti per 29-32. La partita si è aperta però a favore dei lariani. Al settimo minuto l'Eco è riuscito ad andare a marcare, ma nonostante questo l'assertori non si è persa d'animo e a tratti ha saputo imporre il suo piano di gioco. La reazione decisiva è arrivata al diciottesimo grazie a Giovanni Grilotti, colui che si è poi svelato grande protagonista di giornata, autore di 27 punti su 32 totali realizzati dalla squadra. Ma sullo scadere l'assertori si è fatto agganciare nuovamente dagli ospiti, che sono riusciti ad andare in meta con un'azione sulla tre quarti. Nella ripresa sono stati però i padroni di casa a premere nuovamente sull'acceleratore, con due calci piazzati sempre a firma di Grilotti. Ma l'Eco non ha avuto nessuna intenzione di cedere, piazzando un'altra meta. Un botta è risposta che è continuato con l'ennesimo piazzato di Grilotti, la meta di Moretti trasformata sempre da Grilotti ed un nuovo piazzato sempre a nome di Grilotti. L'allungo finale della Sertori è arrivato al 73esimo con un ulteriore calcio piazzato, ma a tempo scaduto l'Eco è riuscito ad arrivare nuovamente in meta, senza però mettere in discussione il risultato finale. Una vittoria che di certo galvanizza i Sondresi, ora con il morale alle stelle in occasione della sfida contro l'Anguero di domenica prossima. Sondresi, ora con la sfida contro l'Anguero di domenica prossima.